Una segnalazione alla Corte dei Conti ed una all'Autorità Nazionale Anticorruzione contro il servizio idrico che svolge questa funzione nel Pescarese. Sandro Marinelli, sindaco di Pianella, sono stati due i motivi principali. Uno è sempre una questione di interruzione di servizi e l'altro lo vogliamo spiegare. Oltre agli innumerevoli disservizi che subiamo quotidianamente siamo arrivati al davvero punto di non ritorno, di vederci come amministrazione comunale, quindi affidataria di un servizio pubblico, una società in house che quindi è da noi partecipata, patrimonio di conoscenza comune, il dato che equivale ad una niramazione degli stessi uffici comunali, una società in house. Ebbene questa società ci chiede per una pubblica fornitura, quindi una fornitura a beneficio della collettività, di stipulare un contratto in forma scritta che è nullo, espressamente definito tale, quindi dal Codice degli Appalti, mandando un dirigente comunale a fare la fila per la stipula cartacea di questo contratto. Quindi violando la legge ed arrecando un danno alla pubblica amministrazione, generando l'ennesimo disservizio, a questo punto dovuto soltanto ad incapacità gestionale di adeguamento alle normative, perché oramai il Codice è del 2016 e l'innovazione mira appunto a snellire le procedure tra pubblica amministrazione. E' davvero paradossale, ritengo che oramai sia il caso che la magistratura contabile e l'autorità nazionale che vigila su queste attività faccia chiarezza, ma soprattutto sia da stimolo a far sì che questo carrozzone che si muove come un elefante e genera danni alla collettività non sia più solo noto per essere molto feroce, soprattutto ultimamente nell'attività di recupero sacrosanta dei crediti, però con l'odioso strumento della riduzione dei flussi, ma cominci ad essere in qualche modo noto anche per un minimo di efficienza amministrativa e gestionale.